Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, il studio è Roberto Di Giacomo. In A1 direzione Roma coda tra Aglio e Calenzano per traffico intenso e rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello per materiale dispersi. Sul raccordo Sena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro 0 della SP224 di Marina di Pisa nei pressi dello svingolo di via Quaglierina a Livorno e frana al chilometro 79 865 in Fipillì. La statale 64 Corettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana inviata a Dea a Firenze per lavori di restauro a un tabernacolo fino al 22 maggio di vieto di transito nel tratto da Ginori a Sant'Ursora. Morsi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio!